Fidarsi a Leica Geosystem vuol dire affidarsi a un'azienda che ha 200 anni di esperienza nel mondo delle misurazioni e da 40 anni che è presente nel campo della distribuzione con strumenti sempre all'avanguardia e innovativi. Il mercato si evolve, Leica è un'azienda senza dubbio che si evolve col passo dei tempi. Sostanzialmente noi non solo inventiamo strumenti, tanto che Leica è una delle poche aziende che anche nei momenti più duri di mercato investe 10 milioni di euro all'anno in ricerca e sviluppo, ma diamo anche un'assistenza post vendita, tanto che tutti i nostri strumenti sono coperti da una garanzia di 3 anni e nel caso specifico di strumenti di diverso tipo o un po' più per il cantiere pesante, la garanzia è Protect che per noi vuol dire garanzia vita su tutti i componenti con difetti di fabbrica riconosciuti dalla casa madre e 5 anni sulla componentistica che potrebbe essere difettosa. Questo è quello che noi offriamo ai nostri clienti.